Il futuro è oggi, un incontro sul Valdarno. Questo è il significato lato dell'evento promosso dall'Associazione Vestri che ieri al circolo del Pestello Montevarchi ha illustrato le problematiche della nostra zona a 360 gradi, dagli aspetti economici a quelli logistici e strutturali, partendo da un documento stilato da esperti di ogni campo. Quest'idea nasce dall'elaborazione da parte di un gruppo di lavoro dell'Associazione Vestri di un documento sul Valdarno, in cui si notano molte criticità, criticità economiche, criticità infrastrutturali, un peggioramento globale dei parametri della vita della vallata e contemporaneamente si solleva il problema se esiste o meno una risposta politica e amministrativa a questo declino sostanziale della vallata. Il documento è offerto alla libera discussione, saranno coinvolti amministratori locali ma anche associazioni, chiunque abbia voglia di discutere del Valdarno e del suo futuro. E così si indicano anche possibili direzioni e soluzioni. Ci sono tante cose da fare, una delle prime sicuramente è che il Valdarno, e quando si parla di Valdarno si intende tutto il Valdarno, cioè Valdarno-Aretino e Fiorentino, cominci a programmare, a ragionare insieme per avere delle politiche unitari che ne possano fare una piattaforma territoriale considerata dai capoluoghi. Altrimenti rischiamo di essere il nord dell'Arezzo e il sud di Firenze e quindi comunque due parti dimenticate. Così dunque il concetto resta quello di un'unione nei fatti e nelle azioni più che a livello prettamente giuridico per rafforzare il territorio valdarnese in ambito non solo politico di confronto con le altre istituzioni.